Ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video di Clash Royale come promesso oggi maxeremo il domatore perché dato l'ultimo giorno delle ricompense però prima facciamo una girata del bauro degli standardi non rarissimo va bene così ho tutti tra i monk allora iniziamo quasi niente domatore giordi da giù ornani e vinti allora il giordi per portare il domatore al 13 7 e lì e lo vado così adesso lo vado a testare di ogni di uno credo sia sbroccato però c'è anche da dire che il nostro avversario è livellore 13 poilè 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 ma guarda un barbara non è vero fa molti gammie di barbara adesso non lo dovete aspettare perchè poi non mi rientro a farli a scolgine per te e quanto resta un peccolo ci sta un classico adesso ma dovete ritrovare l'unica Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.